Un saluto cari amici di Xtreme Hardware, quest'oggi partiamo così Ebbene dopo una lunga pausa per quanto riguarda le recensioni dei NAS torniamo a farle parlando di Buffalo Ce l'avevamo appunto lasciati parlando del Buffalo Terra Station 3210 DN, un NAS dual bay rivolto alle piccole e medie imprese Parliamo quest'oggi del Terra Station 3410 DN che è praticamente lo stesso prodotto ma con 4 bay Quindi è appunto un prodotto rivolto anche alle piccole e medie imprese, a quelle imprese che guardano la sostanza e non tanto ai contorni È un prodotto che a differenza appunto del fratello a 4 bay ed è l'unica differenza che troviamo tra i due prodotti È mosso anch'esso quindi da un processore sviluppato da Annapurna Labs, un'azienda che produce processori acquistata successivamente da Amazon In questo caso abbiamo la L212, un processore basato su architettura ARM Cortex A15 operante alla frequenza di 1.4 GHz E affiancato da 1 GB di RAM DDR3, un giga che nel 2019 è un po' poco, suona un po' strano ma come appunto vedremo Basta e avanza per far funzionare questo prodotto alla perfezione Tutto perché il sistema operativo è appunto abbastanza scarno e ridotto all'osso per poter girare fluidamente anche solo con 1 GB di RAM Senza aver bisogno di chissà quale requisiti hardware Quindi è un prodotto un po' diverso rispetto a quello della concorrenza, rispetto a Synology, Asus, Torcunap che ci ha abituato a prodotti con un sacco di RAM Ma anche perché si portano dietro un sistema operativo piuttosto complesso con una interfaccia desktop E anche ricco di applicazioni eccetera eccetera, si può fare veramente di tutto In questo caso l'azienda ha puntato a quella che è la vera essenza dei NAS, quello per il quale sono stati creati E quindi lo spostamento di dati in rete tra un ufficio e l'altro, tra vari colleghi E anche ovviamente lo scopo di backup Quindi tutto il sistema operativo gira intorno a questa singola funzione E appunto 1 GB di RAM basta e avanza per fare tutto questo Oltre a queste due caratteristiche l'altro aspetto importante di questo prodotto è La presenza delle due porte Gigabit LAN RG45 che permettono l'utilizzo del protocollo link aggregation E quindi il raddoppio della banda in caso due client volessero scrivere o leggere dal prodotto Ovviamente ricordiamo che per sfruttare questa opzione bisogna avere anche uno switch compatibile Con questo protocollo e con questa funzione Dunque andiamo avanti e parliamo un secondo dell'aspetto estetico di questo prodotto Come vi ho detto in precedenza è identico sia per quanto riguarda l'estetica che per quanto riguarda l'hardware Al TS3210DN che cosa cambia? L'unica cosa che cambia è che aprendo lo sportellino frontale Il frontale è completamente in plastica e troviamo ovviamente queste prese d'aria a nido d'ape Dietro lo sportellino abbiamo 4 bay invece che 2 In questo caso abbiamo già 4 dischi inseriti perché questa è la versione da 4 tera Abbiamo un disco per ogni bay Buffalo dà la possibilità di acquistare anche le versioni da 8, 12 e 16 tera Quindi in configurazione da dischi da 1 tera, 2 tera, 3 tera e 4 tera per ogni bay Possiamo scegliere dunque tra vari tipi di ride Dal ride 0 a ride 1, ride 5, 6 e 10 o 1 più 0 come dir si voglia In questo caso il prodotto è già arrivato con un ride 5 configurato Quindi la parte frontale per il resto è identica al fratello 3210DN Troviamo appunto il frontale completamente in plastica, plastica rigida Abbiamo il tasto di accensione con il relativo LED Un LED info che è relativo alle notifiche di sistema Che possiamo andare a poi leggere tramite il NAS Navigator 2 Che è il software che accompagna questo prodotto Che serve anche a rilevarlo sulla rete e fare l'accesso di rete Abbiamo un LED relativo agli errori di sistema Anche essi poi sono visualizzabili tramite questa applicazione I due LED relativi al funzionamento delle reti E un tasto function che ci permette praticamente di smontare o montare il volume ride O estrarre poi eventualmente dei dischi in caso di errori La parte posteriore invece è caratterizzata da una ventola in estrazione Che ovviamente serve per raffreddare i dischi estraendo l'aria calda Due porte di rete LAN RJ45 Due porte USB 3 di tipo A E il classico ed immancabile Kensington Lock Tutta la struttura è, a parte il frontale, in metallo Cosa che noi apprezziamo Perché in effetti come qualità costruttiva I prodotti Buffalo sono tra i migliori che possiamo trovare sul mercato E il metallo in sé facilita anche la dissipazione di calore Per quanto riguarda invece appunto l'aspetto software Quindi il sistema operativo che muove questo prodotto Vi rimando al video che trovate qui in descrizione O qui da qualche parte appena deciderò dove inserirlo Che è un piccolo approfondimento di tutti i vari menu Che compongono il sistema operativo di questo prodotto Che come ho già detto è abbastanza semplice Perché il prodotto stesso non dà mille mila applicazioni Ma si limita a fare il suo Ovvero lo scambio di dati in rete Ma lo fa in maniera eccellente Come vedremo tra poco Quindi vi rimando al video Che verrà probabilmente pubblicato Con un leggero ritardo rispetto a questo Perché siamo in fase di montaggio Troverete appunto il link qui in descrizione Passiamo alle prestazioni di questo prodotto Che sono anche poi le cose che ci interessano più nel dettaglio Ecco Come detto questo è un prodotto che Punta tutto sulla sicurezza E sullo scambio dati Sotto questo punto di vista non possiamo lamentarci assolutamente Perché come possiamo vedere dai grafici Che appariranno qui sulla schermata E che ovviamente trovate in dettaglio Nella recensione qui linkata in descrizione Superiamo i 100 MB al secondo Per quanto riguarda lo spostamento di file di media e grandi dimensioni Ovviamente poi il valore cala un pelo Per quanto riguarda lo spostamento di cartelle di file Eccetera Perché sono singoli file più piccoli E non riusciamo a raggiungere quella velocità Cosa normale Succede ovviamente con tutti i prodotti È indicativo il fatto che superi i 100 MB Andando a sfruttare praticamente completamente la banda a disposizione Ricordiamo che appunto in caso di link aggregation Questa si duplica E quindi due sistemi possono sfruttare dei 100 MB ciascuno Per quanto riguarda la sicurezza Ci tengo a sottolineare una feature Che Buffalo dà ai propri clienti Ovvero quella che si chiama VIP service Praticamente nei primi tre anni di acquisto del prodotto Si può avere la possibilità della sostituzione In caso di guasto di uno dei quattro dischi In 24 ore Ovvero se rileviamo un guasto a un disco Di quelli appunto inseriti già all'interno del prodotto In fase di acquisto Buffalo con questa VIP service Ci sostituisce il disco in 24 ore circa E questa è una feature che abbiamo visto soltanto Per quanto riguarda i prodotti Buffalo Ed è sicuramente una cosa interessante E un punto a loro favore Passiamo ora a quella che forse è la nota dolente Di questo prodotto Ovvero il prezzo Il Buffalo TS 3410DN Nella configurazione da 4 Tera Si trova online a un prezzo che parte da circa 630 euro Un prezzo non molto contenuto Per questo motivo noi tendiamo a non consigliarlo particolarmente Per gli utenti domestici Perché magari appunto essendo già a casa Cercano da un NAS anche un prodotto di intrattenimento E che quindi abbia anche dei servizi e delle applicazioni aggiuntive Questo prodotto è appunto rivolto alle aziende Il prezzo è in parte giustificato dalle ottime performance E soprattutto anche dal servizio VIP service Che appunto entro 3 anni dall'acquisto Ci consente di sostituire un disco danneggiato nel giro di 24 ore E questa è appunto una feature che per un'azienda è assolutamente importante Abbiamo la possibilità di utilizzare il cloud tramite profili Amazon S3 Piuttosto che Dropbox o Microsoft Azure O Microsoft OneDrive C'è il link aggregation Quindi diciamo che per un'azienda è una cifra sostenibile Un'azienda che cerca pochi fronzoli Ma la concretezza, velocità e sicurezza Dovrebbe probabilmente dare un occhio a questo prodotto Quindi per questa recensione oggi è tutto Vi esorto appunto a leggere la recensione completa Che c'è qui in descrizione C'è il link in descrizione Ci sono foto e tutti i test che abbiamo effettuato Con tutti i vari tipi di ride possibili Con questo prodotto Seguiteci sul canale di Youtube Arriveranno dei giveaway più avanti Quindi contest e regali per voi Seguiteci sulla pagina ExtremeHardware.com Per oggi è tutto Da Angelo e dalla redazione di Extreme Hardware Un saluto